Amichevoli, Inter batte 4-2 in rimonta legnatia. I nerazzurri vincono l'ultimo match prima dell'esordio in Serie A, decidono Lautaro, Doppietta, Barella e Stabile. Nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A, l'Inter batte 4-2 legnatia. A Ferrara, gli albanesi passano in vantaggio al sesto minuto con Domena, ma al 55esimo minuto Barella sigla il momentaneo pareggio. Il rigore con il cucchiaio di Medeiros al sessantottesimo minuto riporta avanti gli ospiti, ma a regalare la vittoria a Inzaghi e il capitano Lautaro, che incorna al settantanovesimo minuto e completa la rimonta all'ottantatreesimo minuto dagli undici metri. Di Stabile, novantesimo la quarta rete nerazzurra. Si chiude con una vittoria il precampionato dell'Inter, che a sei giorni dal debutto in Serie A con il Monza batte 4-2 gli albanesi dell'Egnatia. Al mazza di Ferrara, la partita non comincia bene per i nerazzurri, che schierano la possibile formazione titolare di sabato con Lautaro e Turam in attacco. Bastoni perde palla e gli ospiti ne approfittano per segnare con Duomena. Ci pensa poi il portiere Sherry a murare due volte Machitariane, prima dell'intervallo, il capitano argentino. Nella ripresa, però, ecco il pareggio, lancio di Bastoni, controllo e conclusione di Barella, che al cinquantacinquesimo minuto trova l'1-1. Passano tuttavia tredici minuti e Legnatia torna in vantaggio, tocco di mano di Lautaro e rigore per gli ospiti, che segnano il 2-1 con il cucchiaio di Medeiros che supera Sommer. Il capitano nerazzurro, però, si fa perdonare tra il 79esimo e l'83. Prima pareggia di testa su cross di Lazzaro, poi si procura e trasforma il rigore del 3-2. Lex Torino, autore dell'assist, è uno dei giocatori che nella ripresa sostituiscono i titolari, tra questi anche Correa e Stabile, che confezionano al novantesimo minuto il gol che chiude il match. Gran giocata dell'argentino e palla dentro per il classe 2005, che sigla il definitivo 4-2. Adesso, i preparativi sono finiti. Dal 19 agosto, giorno del debutto in Serie A in quel di San Siro con il Monza, l'Inter di Inzaghi dovrà necessariamente fare sul serio.